Alla fine è successo, probabilmente anche prima di quanto la gente si aspettasse. Ad aprire l'evento showcase di PlayStation 5 è stato niente di meno che il trailer di annuncio di Final Fantasy XVI. Parliamo di un filmato corposo di oltre 4 minuti, che ha permesso ai fan di farsi un'idea chiara e precisa di quello che sarà il sedicesimo capitolo di Final Fantasy in termini di grafica, atmosfera, ambientazione, musiche e sistema di combattimento. In tutta onestà è un trailer che comunque non è riuscito ad entusiasmare proprio tutta la community di Final Fantasy e ha lasciato non pochi dubbi sulla possibile qualità del gioco. Ecco perché nasce questo piccolo approfondimento su Final Fantasy XVI, con lo scopo di farvi prendere un bel respiro e scoprire cosa si cela dietro e oltre quei 4 minuti che Square Enix ci ha mostrato. Stando a quanto riportato dall'immagine che ha chiuso il trailer, Final Fantasy XVI dovrebbe essere un'esclusiva PlayStation 5 per quanto riguarda le console e disponibile in contemporanea anche su PC. Durante tutto lo showcase è stata però molta la confusione attorno al fattore esclusività. Ad ascoltare le ultime affermazioni dell'analista Pierce Harding Rolls sembrerebbe trattarsi di un'esclusiva temporale di circa 6 mesi dalla versione PC e di un anno da quella Xbox. Nulla di ufficiale, chiaro, ma a noi sembra uno scenario piuttosto credibile. Per quanto riguarda la data di uscita ci sarà ancora da aspettare un bel po' in quanto non sono stati dati i dettagli in merito alle possibili finestre di lancio. Certo, volendo azzardare una data di uscita, gli anni più papabili sono 2022-2023. Il motivo di questa ipotesi è molto semplice, il gioco è visibilmente sporco in fase poco avanzata nello sviluppo, come dimostra anche la premessa di apertura del trailer che affermava che quanto stavamo vedendo girava su un PC che emulava le prestazioni di PlayStation 5. Inoltre, è notizia di aprile 2019 che la Creative Business Unit 3, di cui parleremo a breve, era al lavoro su un grande titolo next-gen, cosa che fa pensare che almeno tre anni siano necessari per ultimare i lavori. Ad occuparsi dello sviluppo di Final Fantasy XVI è la vecchia Business Division 5, ora chiamata Creative Business Unit 3, ossia la divisione che si occupa principalmente dei due MMORPG della serie, Final Fantasy XI e soprattutto Final Fantasy XIV. Non è un caso, infatti, che nel ruolo di producer di questo Final Fantasy XVI ci sia Naoki Yoshida, l'uomo responsabile della leggendaria rinascita di Final Fantasy XIV e del suo incredibile successo. Alla direzione, invece, troviamo il suo braccio destro Hiroshi Takai, altra figura importante nel team del quattordicesimo capitolo, che in passato ha contribuito anche come director di titoli quali Romancing Saga e The Last Remnant. È importante sottolineare la presenza di queste due figure alla guida del progetto, perché è perfettamente rappresentativo di quanto abbiamo visto fino ad oggi di Final Fantasy XVI e soprattutto di quanto vedremo in futuro. Sapere che Final Fantasy XVI ha nelle loro mani donna un grande senso di sicurezza in termini di qualità, contenuti, rispetto, passione e amore per la serie. Final Fantasy XIV ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori esponenti della serie non a caso, regalando ai giocatori tra le storie meglio scritte, con personaggi estremamente caratterizzati e dei villain memorabili, come non se ne vedevano da secoli. Fidatevi quindi quando vi diciamo che probabilmente Final Fantasy XVI è nelle mani dei migliori talenti Square Enix disponibili ad oggi. Dal trailer di Final Fantasy XVI è difficile riuscire a tirare fuori un'idea chiara di quella che sarà la storia del gioco, al punto tale che non conosciamo nemmeno il nome del protagonista. L'unico nome che abbiamo è quello di Joshua, il figlio dell'arciduca di uno dei due regni gemelli, apparentemente in guerra. Joshua sembra essere un personaggio centrale nella trama di Final Fantasy, in quanto è un dominant, ovvero un individuo in grado di trasformarsi o evocare, cosa che va ancora chiarita, in un acon elementare, ossia in una delle creature magiche che nella storia di Final Fantasy hanno assunto diversi nomi, Sammon, Esper, Eidolons, Eoni, Guardian Force, eccetera. Nel caso di Joshua sembra che lui sia il dominant di Phoenix, ma allo stesso tempo sembra essere in qualche modo collegato anche con quello di Ifrit. Eppure pare che non possono esistere due acon di fuoco, a detta di uno dei personaggi del trailer. Ifrit e Phoenix sembrano essere rivali. Che sia la lotta tra le fiamme della risurrezione contro quella della distruzione? Solo il tempo ce lo saprà dire. Nel frattempo abbiamo assistito anche allo scontro tra Shiva e Titan, dando ulteriore conferma che gli acon avranno un ruolo centrale nella narrativa del gioco. Il nostro protagonista è, o per meglio dire era, la guardia del corpo di Joshua. O almeno lui si definisce tale, chiamandosi lo scudo di Joshua. Sembra infatti che vivremo due momenti distinti della vita dell'eroe di questa storia. La sua gioventù, al servizio dell'arciduca e di suo figlio, e quella più adulta, da mercenario. Ma cosa è successo davvero nella vita del protagonista? Nel trailer vediamo una persona molto vicina a Joshua venire brutalmente uccisa, inondando il bambino di sangue, facendo apparentemente innescare l'evocazione. Che Joshua sia diventato un pericolo e vada fermato? Questa è un'altra domanda, la cui risposta arriverà in futuro. L'ultimo elemento importante da tenere presente è quello del cristallo. Final Fantasy XVI sembra infatti portare avanti l'eredità del cristallo, introdotta nel primo Final Fantasy e in diversi capitoli della serie. Ma sembra esserci un qualche tipo di svolta metanarrativa, intuibile da un messaggio del trailer che riporta testuali parole. L'eredità dei cristalli ha plasmato la nostra storia abbastanza a lungo. Da una parte abbiamo il Mother Crystal, che sembra guidare le azioni di uno dei due regni in guerra, oltre che a proteggerli da un pericolo chiamato Bly. Dall'altra abbiamo un messaggio ai fan di Final Fantasy che dichiara l'intento di cambiare il concetto della storia classica dei cristalli che da sempre abbiamo imparato a conoscere. Un concetto non del tutto nuovo nei giochi di Yoshida, visto che nell'ultima espansione di Final Fantasy XIV, Shadowbringers, si è già tentato di ribaltare il concetto di luce e oscurità assieme alla volontà non proprio chiara e non del tutto benevole del Mother Crystal stesso. Purtroppo lo sappiamo, il dibattito sui combattimenti a turni contro quelli di action non avrà mai fine, anche perché è una cosa così personale che non ha senso sindacare su cosa sia meglio o sia peggio. Quello che dovrebbe contare non è tanto il cosa viene proposto, ma il come, perché esistono action RPG egregi, tanto quanto JRPG a turni pessimi. Nella storia di Final Fantasy abbiamo già avuto modo di vivere un dualismo nella qualità del sistema di combattimento action, con Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake. Il primo abbozzato, superficiale e poco profondo, mentre il secondo più ispirato, ben contestualizzato e assolutamente non banale. Arriviamo ora a quello di Final Fantasy XVI. Sebbene ne abbiamo avuto solo un assaggio, quello che si è potuto vedere parla piuttosto chiaro, ovvero una totale conversione verso l'action game puro e tecnico. Immaginiamo che molti di voi avranno esclamato ma questo è il combat system di Devil May Cry? E la risposta non è così lontana dalla realtà. Il motivo per cui ve lo diciamo si chiama Ryota Suzuki ed è il battle director di Final Fantasy XVI. Per chi non lo conoscesse, Suzuki è un ex sviluppatore Capcom, conosciuto soprattutto per il suo ultimo lavoro in Devil May Cry 5 come game designer. Tutto ora torna, specie alla notizia di qualche mese fa che vedeva Suzuki stesso assunto in Square Enix per un grande progetto next-gen. La capacità di Suzuki è indiscutibile se avete giocato anche solo 5 minuti al quinto capitolo di Devil May Cry. Un sistema di combattimento action pressoché perfetto che fa ancora più suo il concetto di stylish introdotto nella serie Capcom. Con catenamenti di colpi, dash, rush, schivate, perri, mappatura dei tasti, feedback dei controlli, tutto è realizzato con tale sinergia da rendere i combattimenti un'esperienza sempre varia e che si eleva man mano che si fa esperienza e si diventa più tecnici. Quanto visto nel trailer di Final Fantasy XVI mostra tutta quella esperienza integrata e perfettamente contestualizzata alla narrativa del gioco. Il nostro protagonista infatti potrà utilizzare il potere degli Icon in tempo reale a seconda della situazione e delle esigenze in combattimento. Il potere di Phoenix, ad esempio, permette di fare montanti e lanciare in aria i nemici. I pugni di Titan permettono di fare contrattacchi e spazzare via l'avversario, mentre gli artigli di Garuda, sempre che sia lei, garantiscono delle combo aeree velocissime. Considerando che storicamente l'utilizzo delle summon in Final Fantasy era limitato alle semplici evocazioni, qui sembra avere tutto un impatto molto più concreto sul gameplay e davvero non vediamo l'ora di scoprirne di più. Lo sappiamo che a molti di voi non ha convinto la grafica di gioco, ma vi invitiamo a riflettere sul fatto che per la prima volta dopo anni in Final Fantasy si mostra il suo annuncio con un trailer realizzato con il motore di gioco, con tanti incipit narrativi e soprattutto delle porzioni di gameplay. Conoscendo Yoshida e il suo approccio lavorativo, sicuramente c'è l'intenzione di essere il più trasparenti e onesti possibili con la community, al fine di mostrare l'evoluzione tecnica e narrativa attraverso i vari percorsi comunicativi che arriveranno a partire dal 2021 in poi, come ha dichiarato lo stesso Yoshida sulle pagine di PlayStation Blog. Concludiamo col dire che il gioco è sicuramente in una fase ancora embrionale, visto che il trailer è stato catturato da un PC che emulava le prestazioni di PlayStation 5, e pertanto è sicuramente credibile pensare che già l'anno prossimo potremo vedere dei netti miglioramenti. Abbiate insomma fiducia nelle persone che lo stanno sviluppando, se lo meritano e lo hanno dimostrato. Per tutto il resto non ci resta che attendere l'anno prossimo per tutte le novità su questo attesissimo Final Fantasy XVI.